Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cosenza, sempre all'Unical e sempre al convegno Università Arcobaleno organizzato dall'associazione Sogno in collaborazione con Marco Amendola di Demi Sessuali Italiani e Carro di Buoi giusto? Tu ci spiegherai meglio di cosa si tratta. Allora, praticamente, vabbè, faccio parte anch'io dell'associazione Sogno, qui è un'associazione universitaria nata da poco, nata nel gennaio del 2017. Cos'è Demi Sessuali Italiani e cos'è Collettivo Sessuale Carro di Buoi? Allora, il Collettivo Sessuale Carro di Buoi, costituita in associazione da poco tempo, ma è già presente da un anno e mezzo con il proprio blog, è un sito internet, è una comunità di persone che si mettono in gioco, ci mettono la faccia e fanno coming out verso il proprio orientamento sessuale, appunto l'orientamento asessuale. La sessualità, come abbiamo già spiegato anche nel convegno, ma in molte altre occasioni, è non provare attrazione sessuale verso nessun genere. Spesso stiamo pubblicando degli articoli o comunque delle pubblicazioni sulla sessualità e su tutta la comunità LGBTQIA. Marco, una domanda velocemente. Tu hai parlato della tua storia, della tua condizione di persona asessuale, giusto? Ecco, come ti rapporti con gli altri studenti dell'università? C'è accoglienza anche perché il tuo coming out è recente? Sì, diciamo che il mio primo coming out è stato tre anni fa, tre anni e mezzo fa, sì. Le persone non la vedono come una minaccia, come possono vedere l'omosessualità o comunque altri orientamenti sessuali e c'è una certa apertura rispetto alla sessualità. Comunque l'ha stata da fare sulle rivindicazioni e sulla lotta contro le discriminazioni è ancora lunga. Certamente non bisogna fermarsi qui e cercare di formare e informare più gente possibile sugli orientamenti sessuali, che siano l'orientamento asessuale, che sia l'orientamento omosessuale, come tutti gli altri orientamenti. Perfetto. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cosenza. Riccardo Cristiano, Cosenza.